no scusa c'è qualcosa che non quadra non l'avevo fatta due tre giorni fa a Napoli Juve che cazzo ne so mi sembravate sì poi tocca rifare un'altra volta ah ma aspetta perché è porca Italia ah c'è ragione cazzo è porca Italia e allora si rifamola però sto giro io mi peggio il Napoli dai e tu ti peghi la Juve che è molto più forte ma siamo su CES e non su FIFA su figa scusate appunto CES 2017 diamo il via la sigla e ci vediamo tra poco perché sarà una sfida a te rompo il culo sì sì te lo appizzo proprio vedremo vai vai aspetta mi hanno chiesto te fa una cosa ah beh il pilota che cazzo basta dai ciao ciao ragazzi ciao a tutti ben ritrovati ragazzi molto contenuto oggi molto contenuto ma diciamo la verità stiamo registrando è un orario improponibile sì abbastanza improponibile di là c'è qualcuno che sta dormendo quindi non possiamo smadonnare troppo e altrettanto bestemmiare bestemmiamo a bassa voce ma a me sinceramente se me scappa un po' un bestemmino ti scappa e basta non te ne puo fregate meno si cominciamo la partita dai vai tirate indietro se sgari la sedia a bocca e mamma sta a dormire ecco va bene chi batte sto cazzo eccolo qua guarda il finto san paolo me pronto in occhio ah ma c'è una ciglia del piau ecco qual'era e scoppiau eh l'avremmo fatta l'altro giorno sì 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 e me confondo sempre con lo studio orione no lo studio orione c'entra niente ma la rivincita a sto giro a fasi alterne perché io c'ho Napoli tu c'è la Juve vedremo quello che succede in realtà quanto deve vincere Napoli per passare turno 2 a 0 ti batterò 2 a 0 nel frattempo le squadre entrano c'è smadonna dov'è di smadonna? è smadonna sì sì tesoro del mondo traditcazzo? cazzo? no è calcio è calcio ciao eccoli salutate la telecamera cominciamo cominciamo sì dai ecco il cross dov'ha? la camara posso bestemmi a più di tanto mamma mia sì ma dico io ma Mertens a salta le testa al lava come va? fallo è nerchia laterale è nerchia laterale ho buttato io la nerchia la do dritta però no laterale prepara cazzo ma te quanto è uscita mamma mia ma te quanto è uscita ripetiamo perché praticamente il rimpallo come al solito te salto secco ma perché ha tirato da destro ha tirato da destro quello che cazzo sta partire la smadonna e si vede in culo de uno del Napoli non so se vede il pacco de quadrato non so se c'è un altro caso si calla cacca oh mi si è addormito la camara oh voltacci tua il miracolo del buffon oh cazzo buono l'inserimento l'ex staglia era di un bar ce l'avevo vista dentro era dentro già l'avevo esultato Cristo mio aspetta cerchiamo di riordinare le idee perché qua praticamente buono l'1-2 gloria scappiate cioè i giocatori della Juve oddio si vedi fa due polli cioè però oddio il bala si gira vede l'inserimento dei guai e non me lo seleziona è da solo è da solo i guai non mi ha selezionato il giocatore ma per guarda là guarda là si è segnata vera al San Paolo scende la madonna scende la madonna e lo curmina con la R esultavo come esultavo adesso ma mandavi i pacetti alla mandavi i pacetti guarda là guarda con la ricortella sai come uccidavano te tagliani i coglioni caro Gonzalo io ti furbino nel nome del padre del figlio e dello spirito santo se può dire te tagliani i coglioni certo che se può dire rivediamo non mi ha selezionato qua quando hai fatto il passaggio aspetta ma non c'è stavolo mai è stavolo no no io ho selezionato quello che gli correva presso non me l'ha selezionato ma non mi avresti recuperato stavo già a vantaggio stavrei recuperato ma che cazzo che ne sai ma non mi avresti recuperato ma che ne sai ma te lo dico io stavo a correre comunque tieni ma non rompi i coglioni dai sui ci stava appiccicata al culo palo col eh posso andare a vanti si si no rotti i coglioni il cross è buo ancora non c'ho giocatori pannacce oddio marechiano oddio ma dai buffonno oddio mamma mia non posso bestermia non c'è col porco che vanno di qua c'è corcano mamma mia che gli è conno con quel punto interrogativo il posto del numero e io che vado a fare i cross poi tra l'altro vabbè aspetta chi è questo è quello più buono che c'ha quello più buono che c'ho ma che cross fa domanda e che ne so che cazzo oddio oddio stava solo oddio ma pure la madonna quello che ti pare oh la madonna la madonna niente 0 a 1 ma così ordinare amministrazione tu fai veramente schifo ordinare amministrazione che problema c'è quanto devo vincere passate ho fatto ne almeno tre e poi andai supplementari una parola a seguito tempo da foco proprio da figa anche la fregna di tua nonna la fregna di tua nonna ma hai rotto i coglioni mi hai rotto i coglioni bufond faccia quel porco che mannaggia fa me la rivedi quando si sta starci i capelli o guarda che cazzo di passaggi tu tiravi qua un bucato perché l'ho visto ho tirato al volo con l'ascella tutta fracica so io so io quello che bestemmia tutti i pomeriggi ce li provo vai li provo io c'ho manzukic io c'ho ambasì questa grossa grossa oddio in culibali guardavo come dà la pizza tuttavia era chi era manzukic manzukic sono cosa salta in quel modo esterno dalla rete è minchiavich mamma mia rega dopo 20 minuti si è lanciato si vabbè è normale c'ha i suoi c'ha i suoi tempi si si se ne siamo accorti che toglie che cazzo tu madre chi è chi è tu madre chi è è la madre di insinua ecco ma dai su che c'entra con la madre di insinua ma come che c'entra quella del videogioco ovviamente la creeranno la madre virtuale è certo mazza è gole che si è immaginato c'è la lavoro con colpa di testa leggermente più eh caro insignia io non vorrei di niente hai altre qualità ma per la madonna eh c'è il cazzito moscia ma come faceva senti non la voglio manco riguardare perché tanto non so come va a finire andava fuori da un quarto d'ora allora con te faccio aspetta anzitutto aria piccola ok io c'ho bociucci lo ho preso e io tanto c'ho oh 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 ma da dietro no bociucci oddio il tiro il tiro n'altro 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 era un tiro da fuori in culam in culam in culam se incazza in culam in culam ma c'è l'uva allora mamma mia stava da solo cioè stava da solo ma tu te rendi eh questo è troppo su smadonna smadonna fon ho fatto ho fatto un misto tra buffon e smadonna rum si vabbè va è mai rotto il cazzo però eh oh qua 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 dove la volevo dare là ma la volevo eh 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 no cioè manco questa io me ne vado io me ne vado io me ne vado no leva basta basta che coglioni oh vai che ha tolto il 23 sei passato adesso ha passato va in finale vai in finale le freni che cazzo te gioco de porca Italia de droga Italia si ah la puttana però adesso guarda eh guarda come spazzo no no metà tempo metà tempo metà tempo ma che te la te ma che te la te guarda ventus col minimo sforzo non ci sono neanche impegnati cioè manco ha provato a caga col minimo sforzo significa che gli è uscito lo stronzo senza spingere si 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 appena ha fatto ploff si si ha fatto ploff appena si è seduta ordinare amministrazione come sempre dai non sto cercando di riguarda bene per capire c'è poco da capire 16 tiri a 8 54% di possesso palla se 4 tiri a 1 tu vinci 1 a 0 con un tiro nello specchio vincolo 1 a 0 con un tiro nello specchio si hai capito bene c'è una percentuale realizzativa io una cosa impressionante guarda saluta ah passava direttamente saluta va bene quindi ragazzi la Juventus passere al turno con Buffon migliore in campo come l'hai chiamato prima? smadonna a forno smadonna a forno ok quindi ragazzi che cosa ne pensate fateci sapere se vi è piaciuto sto video se siete contenti che la Juve passa per canto la Juve passa spero insomma che sia una bella partita se gioca così Napoli io spero che nella realtà 3-4 gol gli è di faccia eh sì esatto vabbè la straffa troppo lunga mi piace commentate condividete iscrivete al canale 1500 like e arriva che è Napoli-Lazio Lazio-Napoli non me ricordo non me ricordo non me ricordo ma quella partita arriverà e poi c'è la settimana dopo Barcellona-Juve o Juve-Barcellona ah perché è già ora di Champions è già ora di Champions vabbè i nuovi mostri sì vabbè ciao vada Rosica come sempre iscriviti al canale iscriviti al canale Grazie a tutti.